Oi 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 oi, povera storino, povera storino, meno male, guarda, non tu ci sei più a vedere questi scempi, che io non so veramente come fare, ragazzi. Siamo riusciti a perdere anche contro uno dei Milan più brutti che abbia mai visto nella mia vita, cioè che guardo, insomma, il calcio, insomma, che segue il calcio, uno dei Milan più brutti, che non si sa come è a 62 punti, secondo me il Milan, ragazzi, gioca veramente male, però non è per insultare il Milan, ma è per darmi qualche giustificazione, nel senso che tanto noi siamo in grado di perdere anche contro Frosinone, Spal, Sassuolo, tutte queste squadre così in casa, quindi ci si può permettere anche di perdere contro il Milan. Però, a parte questo, ragazzi, ma va bene contestazioni, il presidente nostro, madonna ragazzi, male il cuore mi fa, male il sentimento che mi fa dire sta cosa, il presidente nostro che fa queste dichiarazioni, però bambini miei, io vi sosterrò sempre, vi posso amare, odiare, cazzo volete, ma non si può camminare in campo, non si può camminare in campo, abbiamo regalato un tempo, che poi il campionato sia finito, e non me ne frega più un cazzo a nessuno, neanche a loro, che tanto tra due settimane, tre settimane, sono tutti in vacanza, a farsi cazzi loro, tanto, insomma, si rinizia a luglio, agosto, a fare gli allenamenti, poi che cazzo, gliene frega a loro, pigliano milioni, gli importo una sega, i veri giocatori attaccati alla maglia, o sei nato a Firenze, oppure tu sei una persona particolare, tipo questo signore qua dietro, cioè io, attaccato a lui, lo attaccherei sempre ragazzi, cioè nel senso, non attaccare, nel senso, avete capito, insomma, attaccare il muro, oh, perché ragazzi, cioè, non, non si può camminare in campo ragazzi, venite pagati milioni, ma siete scemi, cioè, io veramente, ve lo giuro, quella, una partita proprio di scoglionamento, che poi nel secondo tempo si siano svegliate, al che uno gli abbia tirato qualche pacchina dietro la testa, tipo Montella, perché secondo me, il caro signor Montella, è un uomo con le palle, e secondo me gli ha un po' detto, ragazzi, ma, sa, svegliassi un attimo, oppure no, bisogna fare queste figure di merda tutti i giorni, tutte le settimane, che ormai, da febbraio si fa figure di merda, quindi sono quanti, tre mesi che si fa figure di merda, basta, io mi, cioè, io, è un po' che mi sono rotto i coglioni, però mi tocca vedere questa partita, perché io, per me si potrebbe andare anche in serie C, serie D, fallire, fa tutte le cazzo che volete, ma tanto io, a prescindere, mi troverei qualche modo per vedermela la partita, anche se magari il giorno, cioè, domani si gioca contro lo scandici, per capirsi, però, ragazzi, cioè, capitemi bene, levate le contestazioni e cazzi vari, la contestazione della Fiesole, insomma, le contestazioni ci sono state oggi a Firenze, in centro, insomma, voi che siete giocatori, ho capito che destabilizza l'ambiente e cazzi vari, ma prendi milioni, figliolo, prendi milioni, prendi milioni, non puoi camminare, cioè, oggi parlo di tutti, perché comunque il primo tempo hanno camminato tutti, pure il magico Brian, che io lo sostengo sempre, è uno di quei giocatori che a me mi piace, anche se è uno scarparo, ragazzi, fa veramente schifo anche lui, però per me è un giocatore che mi rimane nel cuore, anche lui camminava, Brian, non camminare, perlomeno te sei l'unico e mi rimane un po' simpatico in questa squadra, l'unico più di tutti, guarda, mi dispiacerà più quando te ne andrai via te, di quando se ne andrà via, cioè, chiunque, chiesa, pezzella, muri, e tutta sta gente qua, se va via da Bodo ma all'altro, io non lo so, mi piange il cuore, mi piangerà il cuore. Comunque ragazzi, fatemi sapere ovviamente voi sotto nei momenti cosa ne pensate, anche se c'è veramente poco da dire, però è incredibile che comunque oggi c'erano 40.000 tifosi allo stadio, eppure, cioè, non è che siamo scemi, perché noi abbiamo l'attaccamento alla maglia, oggi non si andava a vedere la Fiorentina, nel senso, la maglia si andava a vedere, non si andava a vedere i giocatori giocare in campo, perché tanto, anch'io, quando ho acceso da zone oggi, lo sapevo già che partita sarei andata a vedere, perché tanto non ce ne frega più un cazzo. Il campionato è finito, l'annata è finita, il Milan sta lottando per andare in Champions, quindi loro erano con il coltello tra i denti, anche se hanno fatto cacare da morire, però in qualche modo si è riusciti a perdere anche contro di loro. Ha segnato Cialanoglu, mamma mia ragazzi, non segnava da una vita. Poi Pardo sei un cazzo di gufo, cioè, veramente, l'avrà detto cinque volte, o Cialanoglu c'ha una media realizzativa di meno dell'1%, non segna di abono dal giurassico. Eh, cazzi, e puttacazzo, guarda che ha segnato, accidente a te, o se avesse fatto lo stesso discorso con Romagnoli ci sta che si segnava Romagnoli, cioè, per capirsi. Ah, però a parte questo, ragazzi, non so veramente con chi incazzarmi, cioè, c'avrei tante di quelle cose da dire, ma non so veramente cosa dire, perché, poi, il nostro presidente, il nostro presidente, mamma mia, davvero, ve lo giuro, sento un miliardo di coltelli dietro la schiena a dire questa cosa, che sta zitto tutto l'anno, non si sa dove sia, perché ogni, dove, Allora, qualcuno lo vede a Firenze, a giro per Firenze, durante l'anno, ma anche nelle zone, nei dintorni, qualcuno lo vede? Secondo me c'ha, cioè, vola via da qualche parte, se ne va a svernare, insomma, nei paesi tropicali, perché... Dove cazzo è quest'uomo? E sbuca solo durante la partita, e nemmeno delle volte, e poi durante il resto della settimana sparito, completamente, un fantasma, praticamente. E poi te ne esci con queste dichiarazioni così, stai zitto tutto l'anno, e poi te ne esci con queste dichiarazioni di genere. Però, questo mi fa anche piacere, perché vuol dire che non gli si rompi il cazzo. Gli si rompi il cazzo, perché se no, uno sarebbe stato zitto, e non avrebbe detto niente, avrebbe detto, vabbè, ma che cazzo se ne frega di questi imbecilli, tanto io piglio sempre, io ho miliardi in tasca, questi poracci di cazzo, come me, questo poraccio di cazzo, se cazzo vuole, no? E invece ti si rompi il cazzo, bene, mi piace questa cosa, o è una tua sfuriata per qualche motivo, perché magari, non lo so, sei rimestruato oggi, probabilmente, ieri, non mi ricordo quando hai fatto la dichiarazione, qua dipende da quando vedrete questo video, oppure ti si dà noia davvero. E la seconda opzione mi fa molto piacere, perché sai di quelle cose che ci saprebbe da dirti, probabilmente te lo dicano ogni giorno, però ci se ne avrebbe da dirtene tante altre, però, vabbè. Sono dettagli tecnici, ragazzi, fatemi sapere ovviamente sotto voi nei commenti cosa ne pensate, voglio sapere esattamente la vostra, cosa ne pensate anche delle dichiarazioni del magico Diego. Ciao, ciao Diego, un saluto da Fiesole, per l'appunto. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Oi oi, foran noi, foran noi, foran noi. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.